Colleghi Comini e Oliveres Thanks Mr. Chair Celebriamo che il programma Life in questa sesta fase ha fatto un balzo di bilancio così significativo di oltre il 60% e condividiamo anche che i più dei 5 miliardi previsti sono dedicati agli aree di biodiversità, di economia circolare, cambiamento climatico, di transizione energetica il Life è 100% necessario, contribuisce chiaramente ad affrontare i fattori diretti del deterioramento della natura tuttavia dobbiamo anche attaccare i fattori indiretti, quelli che hanno a che fare con le nostre abitudini di produzione e consumo allora dobbiamo muoverci con decisione verso il cambiamento di paradigma rappresentato dal Green Deal dell'Unione tutte le politiche settoriali sono anche politiche ambientali in questo senso quando il programma Life riconosce il concetto di One Health la salute umana dipende anche dalla salute ambientale e sulla strada giusta ma forse non siamo abbastanza esigenti in quanto a riformulare la PAC secondo questo nuovo paradigma grazie